Ciao Aldo, tu non sai chi sono, io invece ti conosco benissimo, so che presto partirai per Tenerife e lascerai il negozio nelle mani di persone di cui non ti fidi minimamente, fossi in te io non dormirei i sogni tranquilli, chissà come ritroverai il tuo povero negozio, buon viaggio, a presto.